Ciao gormitici amici, bentrovati su Gormiti Collection. Scusate la voce più sexy del solito. Oggi vi parliamo di una serie storica, la mitica terza serie. Quando abbiamo cominciato la nostra avventura nel 2018 su Instagram, nessuno parlava con continuità dei gormiti. Ne rimanemmo talmente stupiti che decidemmo di aprire Gormiti Collection. Oggi, a ottobre 2021, su Instagram, la situazione è molto cambiata. Sono nate decine e decine di pagine dedicate alle creature di Gorm. E questo non fa che farci piacere. Siamo anche consapevoli, in qualche modo, di aver dato un input a molti di loro. Ad oggi su YouTube c'è più o meno la stessa condizione di qualche anno fa su Instagram. È assurdo che non ci siano presenti video dedicati alle varie serie dei gormiti. Noi ci stiamo impegnando per colmare questo vuoto. Per timidezza, ma anche mancanza di tempo, abbiamo iniziato tardi. Ma, come si dice, meglio tardi che mai. Beh, ora, bando alle ciance, sigla! Ben trovati, gormitici amici. Se volevate ritrovare i giocattoli che amavate da bambini, siete approdati al canale giusto. Qui ritroverete la magia del vostro primo spacchettamento. L'emozione di quando vi regalarono la prima isola di Gorm. Benvenuti su Gormiti Collection. Per molte ere sull'isola di Gorm si erano susseguite battaglie e guerre. Molti gormiti erano scomparsi, molti altri continuavano a combattere contro le magie del perfido Magor. Il tradimento di Elios aveva dato inizio al periodo più buio su Gorm. I tre campioni disperati afflitti si erano riuniti intorno al sacro altare della vita. Iniziarono a piangere, stretti in un forte abbraccio. Le lacrime scendevano e, cadendo sull'altare, diedero vita ad un vero e proprio miracolo. Si generò così un potente fascio di luce che diede di nuova energia all'occhio della vita. La luce illuminò tutta Gorm. Subito comparve un nuovo signore, il sommo luminescente, il signore della luce, e intorno a lui i suoi fedeli compagni, richiamati dalla lontana regione della luce bianca. Oltre a questo nacquero altri nuovi popoli, dalla foresta Grandalbero, dal mare Nobilmantis e dalla terra l'antico Torg, ognuno accompagnato da nuovi guerrieri. Magor, furioso, si mostrò a tutti i suoi sudditi e, recitando una diabolica formula magica, provocò una violenta esplosione dalla quale scaturì Armageddon, nuovo signore del vulcano. Nello stesso istante, un lapillo infuocato volò verso la regione di Alto Cielo e, dal suo impatto con le nubi, fu riuscì Devil Fenix. Ma Magor non aveva finito. Il suo odio era tale e la magia nera potente. Aprì così una porta ultradimensionale con la leggendaria regione dell'oscuro orizzonte, dalla quale venne richiamato Obscurio, signore delle tenebre, seguito dai suoi malvagi guerrieri. Una nuova epoca era iniziata su Gorm. Date il benvenuto alla serie 3. Partiamo dal popolo della luce. I rappresentanti di questo popolo provengono dalla regione misteriosa e leggendaria della luce bianca. Il loro signore è il sommo luminescente. È considerato un semidio, mentre vola assorbe l'energia del sole con le sue ali d'oro e la convoglia nella sua spada di fuoco. Ha anche due armi speciali, il colpo di luce e la supernova. Ha un forte psicopotere con il quale controlla qualunque movimento su tutta Gorm. Per quanto riguarda il suo design, il suo creatore, Gianfranco Henrietto, ci ha detto che si era dato una regola per il popolo della luce, ovvero di non avere richiami ad animali, ma di usare elementi quali cristalli, raggi di luce ed elementi atmosferici. Per il sommo, il punto centrale del personaggio è la spada di luce. La testa, poi, è coronata da raggi solari. Il petto ha un design che può richiamare delle ali. Volevo collocare quel popolo negli strati più alti del cielo dovevano avere qualcosa di angelico. In effetti, in aiuto a questa proposta di intenti, venne utilizzata una palette di colori azzeccatissima, bianco, giallo, oro e argento, tutti colori che fanno pensare appunto alla purezza e alla giustizia. I guerrieri di questo popolo sono Solaris, l'elettricante, Comet, l'accecante guardiano e Prismagon. Ovviamente, anche loro sono stati ispirati dagli stessi elementi. Solaris è capace di catturare l'energia del sole per poi trasformarla in un potentissimo raggio devastante che gli parte dalla pancia. L'elettricante, anche lui si nutre di energia solare, lancia Saette, infatti nella minifigure ne impugna uno, ed è pronto a colpire qualsiasi nemico. E in più fulmina i nemici dal suo unico occhio ciclopico. Comet è luce allo stato puro, il suo grande occhio posizionato sulla testa assorbe tutta la luce per poi spararla dalle sue braccia. Prismagon è uno dei più forti guerrieri della luce. Il principio di potere è quello, assorbire l'energia solare dalla testa per poi spararla dalle braccia e sconfiggere qualsiasi nemico. L'ultimo è l'accecante guardiano e la sentinella del suo popolo non è tra i più forti ma sicuramente fondamentale nelle dinamiche belliche. Questo popolo, tranne il signore, non possiede ali ma ognuno di loro può spiccare il volo grazie allo psicopotere. Ecco il nuovo popolo della foresta capitanata da Grandalbero. La tattica è semplice, le capacità mimetiche e la grande saggezza unite ai nuovi straordinari poteri ricevuti permettono di attendere nell'ombra i guerrieri di Magor e di attaccarli senza pietà. Lui è il capo e uno dei guerrieri più forti e potenti mai apparsi su Gorm. Grandalbero allunga le sue braccia a dismisura e colpisce con la sua clava. Nessun nemico gli può sfuggire. Abbiamo poi Battiquercia. Lui è piccolo ma la sua statura inganna con i martelli che ha al posto delle mani può abbattere chiunque. Muschi antico, lento e letale provoca allucinazioni terribili sofferenze. Paludis il crudele allunga le sue braccia e colpisce con le corna che ha in testa. Ramartiglio è un Gormita esile ma ciò lo rende velocissimo e letale grazie anche le sue lame taglienti. E adesso preparatevi perché in pochi lo hanno visto. Magitronco lo stregone si nasconde sotto il suo mantello. Lo apre solo per lanciare le sue magie. Letali per chiunque. Leggete la sua carta se avete coraggio. Vediamo adesso il popolo del mare. Nobil Mantis e i suoi guerrieri nuotano silenziosamente nelle acque che circondano tutta l'isola di Gorm. Neanche un piccolo ruscello sfugge loro. Ovunque ci sia acqua queste creature attendono nascoste per tendere rapidi e implacabili agguati ai loro nemici. Nobil Mantis è il signore del mare. Lui racchiude in sé una multitudine di esseri marini. Grazie a questa unione il signore ha un incredibile potere come le onde telepatiche sprigionate dalle sue braccia. Oppure spara scariche elettriche. Un signore tanto nobile quanto invincibile. I guerrieri del mare sono l'inguacida, lo stritoratore dei mari. Beh, potete immaginare i suoi poteri del nome stesso. L'imprevedibile è silente. La sua arma principale è la pazienza. Se un nemico si avvicina, le sue mandibole non lasciano scampo. Narvalion invece è un tipo amichevole e ottimista, ma le sue corna sono potentissime armi contro chiunque minacci la pace di Gorm. Squalys, amico di Narvalion, è rapido e super veloce. Tentaclos ha la testa a forma di conchiglia e al posto delle braccia ha dei lunghissimi tentacoli velenosi. Un vero pericolo acquatico. Ecco il popolo della Terra. Da sempre leali e coraggiosi. Sono gli alleati che tutti vorrebbero avere. Sono guidati dall'antico Torg. Questi nuovi guerrieri saranno fondamentali per la guerra. Questo popolo ha infatti la capacità di scavare gallerie, rifugi, di costruire roccaforti impenetrabili e naturalmente di causare frane e valanghe. Nato dalle pendici della montagna sacra, l'antico Torg è l'essere più grande dell'isola. Non ha particolari poteri, ma è in grado con un solo colpo di testa di abbattere qualsiasi pericolo. Rock è il braccio destro del signore. Si mostra superbo e pieno di sé, ma in realtà è un guerriero dall'animo coraggioso e leale. Il tormentoso Sabis è generato dalla sabbia, è un muta forma e può scatenare tempeste sabbiose. A noi si mostra in questa forma. È l'avanguardia del popolo della Terra, quindi lo immaginiamo caratterialmente spregiudicato e coraggioso. L'irpido roccioso è un gormita lento ma letale. Colpisce i nemici con qualsiasi parte del suo corpo, visto che è fatto interamente di rocce appuntite. Fossil è una moltitudine di esseri. Nel suo busto è posto lo spirito di Larkon. Quando Larkon apre la bocca, da essa fuoriescono le urla strazianti degli antichi abitanti di Gorm, che distruggono mente e corpo dei nemici. Opale Nero ricorda lo stile di Comet, raccoglie energia nella sua sfera per poi spararla dalle mani. È solitario e nessuno può comandarlo. Un'esplosione di lava colora tutto il cielo di rosso e da questa piomba a terra Armageddon, seguito da una nuova schiera di spietati guerrieri di fuoco, pronti a servire fedelmente Magor con i loro spaventosi poteri. Armageddon è la malvagità fatta gormita. Spara fuoco con la stessa potenza di un vulcano, e i gormiti che sconfigge li divora e assorbe la loro potenza magica. Navus è colui che pianifica le azioni di battaglia del suo popolo, grazie alle capacità del suo enorme cervello. Scorpios, il malvagio pungitore, il nome rivela la sua arma, il suo pungiglione è letale, in più può mimetizzarsi nella sabbia e grazie alle sue enormi tenaglie può lacerare qualsiasi cosa. Forgius, martello di fuoco, spara dal suo braccio i raggi di fuoco e nonostante sia cieco riesce a scovare i suoi avversari grazie al suo psicopotere. Usa la corna che ha in testa proprio come delle antenne. Sentinel, fatto di lava liquida, riesce a diventare tutt'uno con qualsiasi superficie. Lui è la sentinella del suo popolo, è ricoperto di decine di occhi collegati direttamente ai signori del vulcano. Non è troppo pericoloso, ma se ti vede stai certo che i guerrieri più temibili verranno a cercarti. Brax è malvagio, meschino e crudele, degno alleato di Magor. Lui arriva quando la battaglia è finita e si assicura che nessuno sopravviva, a dir poco inquietante. Già alleato di Magor, il popolo dell'aria può contare su guerrieri e poteri sempre più forti. Nascono da una magia di Magor, Devil Fenix e i suoi seguaci. Ora il vecchio saggio e le forze del bene hanno dei nuovi e temibili avversari da affrontare. Il nuovo popolo non ha né dubbi né ripensamenti, è totalmente malvagio e ha servito al male. Il capo dell'aria è una macchina da guerra, raccoglie l'energia volando e la scaglia sui nemici sotto forma di sfere d'urto magiche. La sua missione è diversa dai suoi alleati. Lui ha il compito di trovare il vecchio saggio e di distruggere le roccaforti difensive dei gormiti. Mistica Falena è uno stregone e in più con il solo movimento delle ali può sferrare sfere energetiche. Dragon, la sua genesi è l'esempio lampante dell'alleanza tra il popolo dell'aria con quella del vulcano, poiché è nato dall'unione tra aria e fuoco, è il più temuto perché è il più letale. Beccoduro vola molto in alto e poi si lancia contro i nemici per batterli con il suo beccoduro. Magufo ha ottenuto i poteri più forti, il suo psicopotere è al massimo, meglio non guardarlo negli occhi. Crudelion è il più spietato, a lui combattere provoca proprio piacere, è la vera anima nera del suo popolo. Dall'oscuro orizzonte vengono richiamati Obscurio e il suo inquietante esercito. Il signore di questo popolo è il gormita più forte ed è il più antico nemico del sommo luminescente, con cui si è già scontrato in altri mondi e altre ere. Oltre alla battaglia a cui è stato chiamato, Obscurio ha un altro compito, quello di recuperare l'occhio della vita, poiché è il solo che può maneggiarlo senza esserne distrutto. Parlando della minifigure, Gianfranco Henrietto ci ha raccontato da dove è nato, cosa doveva rappresentare e a chi si è ispirato. Obscurio innanzitutto doveva superare in malvagità orrore profondo. Ho mixato una pantera con delle ali da pipistrello pterodattilo, mettendo le corna ad un felino, così lo sposti completamente di specie. Il risultato finale aveva un richiamo al barrog del signore degli anelli. Lunaris è un maestro in magia nera, tanto che lo stesso Magitronco ne parla con timoroso rispetto. Lui riesce a piegare sotto la sua volontà qualsiasi cosa e si capisce quando attacca perché dalla sua testa escono vapore e luce spaventosi. Ombra assassina è un killer che agisce in silenzio e velocità. Nessuno può sfuggire alla sua vista, è un predatore implacabile. Pantanera è un guerriero che ha già combattuto contro il leggendario popolo della luce. Non aspetta altro che un nuovo scontro con i vecchi nemici ed è secondo solo ad Obscurio. Buconero è una prigione senza via di ritorno. Riesce a creare un vortice che aspira qualunque cosa e la spedisce nella regione di oscuro orizzonte. Spiritonero non è un vero e proprio gormito. Forse è quello che ne rimane. È un fantasma che non ha sembianze ben precise ma indossa un mantello. Se aperto fuoriesce un'aurea nera che toglie la vita a qualsiasi cosa si trovi davanti. Qui abbiamo una piccola selezione degli oro dedicati alla terza serie. In realtà sono molti di più ma abbiamo deciso che ci faremo un video prossimamente. Questa è la selezione appunto dedicata. Abbiamo scelto un personaggio per ogni popolo. Di alcuni sappiamo la provenienza, di altri purtroppo no. La provenienza certa Antico Torg viene dal magazine in teoria numero uno della Grecia. Tentaclos viene da una delle innumerevoli versioni della Tana di Mureno, del piccolo playset. E Magufo viene dal playset Picco dell'Aquila, anche quello ha avuto svariate edizioni. Per quanto riguarda Magi Tronco, Braggs, Bucco Nero e L'Elettricante non sappiamo dare ancora una origine certa. Sono molto belli però purtroppo gli oro argento come abbiamo detto già in altri video rappresentano uno dei misteri più grandi e trovare le fonti è davvero davvero difficile. Ad ogni modo restano delle bellissime figure anche se sono colorati con questa pittura dorata. Sono davvero molto belli e soprattutto quando si trovano in condizioni mint come questi praticamente. Il problema appunto è che giocandoci è facile trovarli e di solito questi oro sotto hanno la base di plastica gialla che si intravede a volte. Per quanto riguarda le esclusive magazine purtroppo per la terza serie uscirono solo due personaggi. Grandalbero parlante e Devil Fenix. Assolutamente due personaggi bellissimi perché sono snodabili e Grandalbero parla mentre Devil Fenix ha la funzione che si illumina quindi comunque sono due esclusive bellissime ma purtroppo sono solo due. Allora Grandalbero fantastico e Devil Fenix vediamo se funziona. Un timido lampo non so se l'avete visto vediamo questo ok questo funziona bene si si vede perfetto. Si vabbè sono invertiti praticamente Devil Fenix era col numero 10 e invece Grandalbero che a sinistra era col numero successivo quindi col numero 11. Devil Fenix preparati che a breve ti facciamo l'operazione a cuore aperto. Andrà tutto bene. Veniamo ora ai dati tecnici. La collezione è composta da 42 personaggi. Si potevano trovare suddivisi tra collezione edicola e collezione da negozio di giocattoli. In edicola si potevano trovare 28 personaggi diversi 4 per popolo di cui uno esclusivo. Chi erano? Irpido Roccioso, Ramartiglio, Squalis, Crudelion, Sentinel, L'Elettricante e Spirito Nero. Anche nei negozi di giocattoli si potevano trovare 28 personaggi sempre 4 per popolo e uno esclusivo ed erano opale nero, muschio antico, narvalion, dragon, forgius, laccecante guardiano e pantanera. Infine per completare la collezione era necessario acquistare 7 diversi magic egg. Questa era la prima volta in cui apparivano i magic egg letteralmente uovo magico. Ma cosa aveva di magico? Beh era uno scrigno fatto di una sostanza bianca che si poteva sciogliere in acqua e al suo interno rivelava 7 personaggi che si potevano trovare solo lì. Ma vediamone uno, così possiamo capire meglio nel dettaglio e se volete vedere il funzionamento vi rimandiamo al nostro primissimo video dove aprimo un magic egg della serie Titanium. Ecco qui due esemplari rarissimi di magic egg sigillati. Possiamo vedere fronte e retro in contemporanea, a sinistra al fronte. Il blister è molto curato graficamente e anche nelle diverse profondità create dalla plastica. La grafica si ripete per tutte le confezioni, vi sono illustrati Magufo e Solaris. Non era un acquisto al buio, la plastica trasparente permetteva infatti di vedere il colore dell'uovo che era diverso per ogni popolo, quindi non ci si poteva sbagliare. A sinistra infatti vediamo l'uovo verde della foresta che conteneva magi tronco e invece qui c'è l'uovo blu scuro che conteneva buco nero del popolo delle tenebre. Beh, magra consolazione per i genitori dell'epoca. Comunque era una spesa importante. A destra vediamo la checklist dei sette personaggi e il funzionamento dell'uovo. Ci dice che basta rimuovere la plastica colorata, immergerlo nell'acqua e ammirare la magia. Ok, così si potevano trovare i sette super speciali, ma ora vediamo in quale modo si potevano trovare tutti gli altri personaggi. Come detto, la collezione era divisa tra edicola e negozio di giocattoli. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un box edicola sullo scaffale di un edicolante, con ben 5 bustine dentro. Beh sì, siamo stati davvero fortunati. Sul retro della scatola c'è scritto che conteneva 28 bustine al prezzo di 1,90€ cada una. Quindi considerate che i Magic Egg, da quello che sappiamo noi costavano circa una decina di euro, era tantissimo. Alla fine c'era sempre un personaggio dei gormiti. Ok, vediamo una bustina. Allora, questa qui è la bustina terza serie, collezione edicola. Si distingue dall'altra soltanto per il logo. Allora qui vedete c'è preziosi collection, proprio qui. Allora noi le abbiamo tastate, siamo divertiti a tastarle tutte e poi abbiamo segnato i personaggi che ci sono dentro. E qui dentro c'è un bellissimo obscurio. Allora, vediamo. Ok, allora qua si sente l'aletta, le corna e l'altra ala. Inequivocabile. Fantastico. Il box espositore da negozio dei giocattoli era invece più grande. Diciamo che è praticamente il doppio. Eccolo qui. La parte grafica è praticamente identica. Diciamo che cambia solo il logo. Invece di preziosi collection troviamo il logo jig. Il prezzo non era più imposto come in edicola, ma era a discrezione dei negozianti. Pertanto era possibile trovarle a prezzi leggermente diversi e conteneva 50 bustine. Prendiamone una. Queste non le abbiamo tastate. Allora, la bustina in pratica è la stessa identica cosa. Cambia soltanto il loghetto jig. E sul retro ci sono i sette signori della natura. Quelli nuovi. Fino a qui abbiamo visto le bustine, le blind bag, che erano un acquisto alla cieca. A meno che uno non fosse un abile tastatore e l'edicolante barra negoziante gli permettesse palpeggiamenti ripetuti e prolungati. Ma per chi non voleva o non poteva comprare al buio, vennero realizzati dei comodi blister. La formula era quella classica. Quattro personaggi, tre visibili e uno nascosto. Ogni blister includeva un signore diverso. È considerato il successo ottenuto dalla serie 3? Sinceramente non ci spieghiamo come sia stato possibile trovare uno proprio con il somo luminescente. Il successo della serie 3 è stato clamoroso, ha portato la narrazione degli eventi accaduti su Gorm ad un livello superiore. L'introduzione di luce e tenebre è stata un'intuizione tanto semplice quanto geniale. Il bene assoluto e il male assoluto non potevano che emozionare e appassionare ancora di più la generazione di bambini che stava vivendo quel fenomeno denominato Gormiti, gli invincibili signori della natura. Benissimo, vi ringraziamo per aver seguito il video. Speriamo di non aver dimenticato nulla, ma di solito qualcosina ce la dimentichiamo sempre. Condividete le vostre esperienze, aneddoti e ricordi. Per noi sono fondamentali. Manteniamo vivo il ricordo di questi bellissimi personaggi e fantastiche storie. Alla prossima, ciao Gormitici Amici!